Concussione nei confronti di un'anziana. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con contestuale sospensione dell'esercizio di pubblico servizio nei confronti di tre esercenti della professione sanitaria in servizio all'azienda sanitaria provinciale di Palermo, indagati in concorso del reato di concussione. Le indagini hanno consentito di acquisire grave elementi indiziali nei confronti di un odontoiatra, un odonto tecnico e un infermiere che abusando della loro qualità di incaricati di pubblico servizio avrebbero preteso da un'anziana paziente la consegna di 100 euro in contanti per l'erogazione di una prestazione sanitaria che la donna avrebbe invece dovuto ricevere gratuitamente. Le investigazioni avviate subito dopo la denuncia asporta dalla donna hanno permesso di recuperare le banconote che la paziente 84enne era stata costretta a corrispondere a tre operatori sanitari per ottenere la riparazione della propria protesi dentaria. Arrestato un uomo di 48 anni, incensurato ed esperto perito tecnico, gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione di ordini esplosivi artigianali. L'operazione è stata messa in atto dalla Polizia di Stato del Commissariato di Borgoognina nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzato al contrasto della criminalità comune e in particolare all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle attività investigative svolte quotidianamente il malvivente era stato individuato quale possibile detentore di sostanze stupefacenti dai poliziotti del commissariato che hanno pertanto sottoposto a perquisizione domiciliare la sua abitazione ubicata nel quartiere Picanello, dove è stata scoperta una vera e propria coltivazione di piante di marijuana che l'uomo aveva allestito all'interno del giardino. I poliziotti inoltre hanno rinvenuto, occultate dentro l'armadietto metallico, infiorescenze essiccate e altra sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 2 kg, la cui vendita avrebbe fruttato diverse migliaia di euro. Si è appurato infine che l'uomo all'interno dell'appartamento avrebbe creato un vero e proprio laboratorio per la fabbricazione di ordini esplosivi artigianali. rinvenuti infatti quattro candelotti esplosivi, una bomba artigionale con grosse briglie di ferro, dall'elevata capacità offensiva e ancora una quantità elevata di polvere esplosiva e altro materiale esplodente. Stante l'estrema pericolosità di quando rinvenuto con grave esposizione a rischio per gli abitanti della zona, è intervenuto il personale degli artificieri della Polizia di Stato al fine di mettere tutti gli esplosivi presenti in sicurezza. L'uomo pertanto è stato arrestato e il materiale esplosivo lo stupefacente è posto sotto sequestro per la successiva distruzione. Un milione di euro destinati ai comuni siciliani per la progettazione dei piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'aggiunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali, ha approvato ieri pomeriggio il decreto che stabilisce l'ammontare le modalità di erogazione dell'incentivo ai comuni. A beneficiare del contributo saranno i comuni che non hanno ancora adottato il PEBA, tenendo conto prioritariamente della classe di comuni con una popolazione compresa tra i 5 e i 20 mila abitanti, calcolata sulla base della faccia d'età compresa tra i 18 e i 64. Con queste risorse, ha dichiarato l'assessore Nuccio Albano, consentiremo ai comuni siciliani di dotarsi della pianificazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Un fondamentale strumento che ha lo scopo di garantire alle persone con disabilità un elevato grado di accessibilità e visitabilità degli edifici pubblici, oltre che di quelli privati, di interesse pubblico e degli spazi urbani in cui vivono. Eliminare tutti gli ostacoli, ha continuato l'assessore Albano, che impediscono alle persone con disabilità di potersi muovere più facilmente, merita la massima attenzione da parte delle istituzioni. Intanto, per l'assegnazione degli incentivi sarà successivamente emanato un opposito avviso. I comuni dovranno richiedere il contributo, inoltrando la documentazione a firma del sindaco al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali. È stato firmato ieri dal questore della provincia di Ragusa il dottor Vigenzo Trombadore, dal commissario straordinario il dottor Fabrizio Russo, presso gli uffici dell'ASPE di Ragusa, il protocollo di intesa per le audizioni protette dai minori. Il fine è quello di tutelare le giovani vittime nel momento in cui vengono raccolte le loro informazioni testimoniali, atteso che per la tipologia stessa dei reati e la loro fragilità psicofisica connessa all'età possono avere un alto potenziale traumatico. Si tratta di un modello d'azione specialistico, ha sottolineato il dottor Trombadore. In materia di audizioni protette di minori di vittime di violenza o di maltrattamenti, è rappresentata per la questura di Ragusa un traguardo importante per poter assumere ogni utile informazione delle giovani vittime, con il supporto degli operatori dell'ASPE qualificati e con specifiche competenze di settore. Secondo il dottor Fabrizio Russo, invece, la firma del protocollo di intesa suggerla una collaborazione fra amministrazioni dello Stato, che ci fa piacere onorare e che si è già manifestata in passato, ad esempio attraverso il supporto fornito dalla questura per l'attivazione di un posto di polizia presso il pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria. L'obiettivo, dice il dottor Russo, anche in questo caso è il rafforzamento della cooperazione istituzionale, oltre a garantire un intervento tempestivo a garanzia dei minori. Da ieri, quindi, è operativo il protocollo di intesa e i soggetti fragili verranno accolti dagli operatori della pulizia di Stato con l'ausilio di psicologi dell'ASPE presso le sale audizioni della questura dei commissariati di pubblica sicurezza di Vittoria, Comiso e Modica. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS